Posso usare i blocchi in due modalità, c'è la modalità Scratch e la modalità Arduino. Come vedete in modalità Arduino molte delle categorie di Scratch non sono utilizzabili. E' la modalità proprio per programmare il robot e farlo funzionare, infatti posso utilizzare i comandi di controllo, dati e blocchi per creare variabili e blocchi appunto, e tutti i comandi per programmare il robot. Nella modalità invece Scratch posso utilizzare anche tutta la programmazione di Scratch. Al posto del gatto di Scratch ho la mascot di Mblock, cioè Mpanda. Tanto per darvi un'idea di cosa posso fare, clicco su situazioni, quando si clicca la bandierina posso chiedere ad esempio al mio panda di dire qual è il valore del sensore a ultrasuoni che si trova alla porta 10. Questo in sostanza è un modo molto semplice per verificare soprattutto il funzionamento dei sensori e i valori di cui essi sono portatori. Se io clicco sulla bandierina, vediamo che appunto il sensore, visto che non ha nulla davanti, almeno non nelle vicinanze, mi dice 158.466. Nel caso mettessi, come vedete dalle immagini, qualcosa vicino al sensore e richiedessi il valore, ora mi dice 11.517. Possiamo anche, per evitare di avere singole letture del sensore, usare un per sempre e gli dico per sempre di dire la distanza del sensore. Se lo faccio partire, vedete che a seconda che io avvicini o allontani l'oggetto dal sensore, il sensore rileverà distanze diverse. Per ora è tutto, arrivederci.